La Regione è in affanno nell'utilizzo dei fondi europei, lo dice il report sullo stato di attuazione del POR Molise 2014-2020, il cui contenuto sarà presentato al Comitato di Sorveglianza del Piano Operativo il 19 e il 20 luglio prossimi. A fornire le prime anticipazioni, il Consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Angelo Primiani, che parla di situazione dir poco preoccupante. Secondo i dati dell'autorità di gestione del POR, dati aggiornati al 30 giugno scorso, su una dotazione complessiva di 154 milioni di euro, risulta impegnato il 18%, pari a poco più di 28 milioni, erogato appena il 3% per circa 4 milioni. Per quanto riguarda il Fondo Sociale Europeo, poi, la percentuale delle risorse impegnate si aggira intorno al 39%, quelle effettivamente erogate e certificate sono ferme al 3%. Situazione ancora più grave per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, in questo caso è stato impegnato appena il 9%, le somme effettivamente pagate e certificate ammontano ad appena il 3%. Una regione dunque immobile, che non riesce ad utilizzare fondi che risultano essere indispensabili per il rilancio dell'economia. Una regione che, sempre stando dai dati contenuti nel report, continua a ignorare il settore dell'energia sostenibile, quelli dell'ambiente, della cultura e del turismo, con una percentuale di risorse impegnate e pagate pari a zero. A distanza di 4 anni dall'avvio della programmazione comunitaria, poco o nulla è stato fatto, è l'accusa dei 5 Stelle, come pochissime è stato fatto per lo sviluppo delle aree interne. L'attuale programmazione, ha denunciato Primiani, si limita ad individuare 24 milioni di euro per il supporto di 4 aree individuate dalla strategia nazionale e aree interne e per quelle che non ne fanno parte, ma senza delineare una reale e organica strategia di sviluppo. Di fronte a questa situazione, i 5 Stelle hanno presentato una proposta di legge per istituire una commissione speciale per gli affari comunitari, con il compito di monitorare lo stato di avanzamento di spesa dei fondi europei e fornire linee di indirizzo per la nuova programmazione. Il Movimento 5 Stelle, tra le sue proposte, ha preparato anche una per la programmazione successiva al 2020, che prevede una strategia regionale per le aree interne che punti sulla concertazione tra regioni e comuni e che possa invertire la tendenza e frenare così il grave fenomeno dello spopolamento, creando nuove opportunità di crescita e di sviluppo.